Nicole Magnassi Allora, il premio Gorsi in STEM è promosso dalla Fondazione Coca-Cola HBC Italia in collaborazione con Junior Achievement Italia ed è un riconoscimento che viene destinato a coloro che dimostrano abilità di leadership, spirito imprenditoriale e competenze nell'ambito delle discipline scientifico-tecnologiche è destinato alle giovani studentesse diciamo che lo spirito è proprio quello di fornire i giusti strumenti sin dall'inizio in modo tale che poi tutte possano sviluppare la propria identità STEM aver ricevuto questo premio e aver fatto un'esperienza in un'importante azienda dove si è parlato di materie prettamente scientifiche e vedere donne che ricoprono questi ruoli che come si è detto sono di solito maschili ti fa dare un incentivo in più, una speranza il fatto che comunque questi lavori poi li possono anche ricoprire delle donne lo possono fare anche in maniera insomma egregia ed eccellente